A qualche anno di distanza dalla tragedia dell'Aquila si torna a parlare di distruzione e dolore. Il terremoto questa volta infatti ha colpito il centro Italia. Tanta paura ha avvolto i cittadini di accumuli, amatrice e paesi limitrofi. Tanta soprattutto la sofferenza di chi oltre le proprie case ha perso anche una madre, un padre, un figlio o un amico. L'intera Italia non solo si è immediatamente mobilitata con raccolte fondi, di beni di prima necessità e moltissime iniziative volte a sostenere le popolazioni colpite dal terremoto. Giovedì 8 settembre anche il vicequestore aggiunto Maria Grazia Milli, dirigente della Polizia Stradale di Caltanissetta, sarà presente sino al 22 settembre nelle zone colpite dal sisma per dare il proprio contributo nel settore della viabilità. La Polizia Stradale è un reparto abbastanza preparato ed abituato a fronteggiare questo tipo di scenari, per cui ho ritenuto doveroso naturalmente portare il mio apporto, certamente perché porto la divisa della Polizia di Stato e sono specializzata nei servizi ovviamente di Polizia Stradale, ma anche perché quelle sono anche le mie zone di origine. Quindi la mia famiglia vive proprio a Rieti, parte dei miei parenti sono dislocati tra Rieti e Roma, per cui Amatrice e tutte le zone distrutte chiaramente sono zone che hanno fatto parte certamente della mia infanzia, delle vacanze eccetera, quindi si va credo anche con un motivo in più a parte quello legato prettamente al dovere di servizio. Il vicequestore aggiunto Maria Grazia Milli entra in Polizia il 21 marzo del 1994 come vicecommissario. La prima sede per lei è stata a Palermo, mentre arriva alla dirigenza della Polizia Stradale di Caltanissetta nel 1999 e dal 2012, dopo aver conseguito il master, è anche docente di analisi criminale. L'arrivo in centro Italia sarà un ritorno alle origini per lei, anche se gli scenari a cui assisterà non saranno uguali a quelli dei suoi ricordi. Psicologicamente infatti poi vediamo che reazione si avrà. Certamente sono preparata perché parlando con amici del posto so che si troverà uno scenario di guerra, cioè Amatrice e Rasa al Suolo, quindi l'effetto di comunicazione visiva, tanto per parlare in termini tecnici, è di un bombardamento. Certamente non sarà un servizio come possono essere le aggregazioni a Expo oppure in situazioni certamente più ludiche, anche sebbene complesse dal punto di vista della viabilità. Quindi credo che sarà un'esperienza forte e abbastanza toccante, dove però c'è la motivazione ulteriore, proprio perché è questo tipo di scenario, di poter dare un margine di contributo.